bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi voglio subito dirvi una cosa vi aspetto tutti i live su twitch alle 16 e 30 per festeggiare insieme un grande un grande arrivo per quanto riguarda le live una sorpresa che ho voluto farvi e per festeggiare ovviamente i 200.000 iscritti su twitch e i 300.000 su youtube quindi grazie ne approfitto per ringraziarvi e ne approfitto anche per ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone dai ragazzi grazie mille non vi dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video e allora ragazzi andiamo direttamente super super fast a parlare del primo argomento di oggi che si tratta dei nuovi funko pops sì ragazzi per chi di voi colleziona funko fanco non so bene come si pronunciano io ne ho uno solo me l'hanno me l'ha regalato la pambio quello di crash bandico meraviglioso ma ce ne sono veramente tantissimi di fortnite su amazon trovate i nuovi funko pop hanno tra l'altro un prezzo veramente interessante la notizia è proprio di ieri pomeriggio quindi andate a farci un salto li trovate anche su gamestop ovviamente ma il prezzo è leggermente più alto quindi se volete contribuire alla vostra collezione beh allora il momento giusto per prendere i nuovi arrivi e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché si parla di fix che verranno fatti nella patch 12.60 ahimè questa settimana lo sappiamo benissimo non è arrivata per il battle royale la patch è arrivato invece per save the world un aggiornamento che ha introdotto alcune cose e ha fissato alcuni bug tra i bug principali che questa patch ci ha andrà a fixare c'è quello del piccone ne abbiamo parlato anche ieri il piccone di star wars il button se non ricordo male in inglese però non vi ho mai fatto vedere che cosa succedeva con il piccone abbiamo una clip guardate un pochettino praticamente ve la spiego prima di farvela capire quando si teneva in mano quel predeterminato piccone non si sentivano i passi l'avversario non sentiva i vostri passi e quindi potevate tranquillamente fargli uno sneaky sneaky correndogli dalle spalle e sparandogli guardate un po guardate un po che roba forse dal cellulare si sentirà un pochettino basso ma vi garantisco che dal computer è molto più evidente la cosa si sente proprio l'ultimo passo prima di sparargli e quindi hanno fatto bene a toglierlo lo rimetteranno con la nuova patch abbiamo anche degli altri bug che verranno fixati alcuni su salva al mondo dove le bombe esplodevano e facevano danno anche attraverso gli edifici anche delle modifiche per quanto riguarda invece la creativa dove c'erano dei problemi per i giocatori che da mobile non riuscivano a muoversi correttamente quindi un sacco di bug fixati quelli più importanti e speriamo soprattutto che la settimana prossima ci regalerà la nuova patch 12.60 e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ragazzi è un argomento incredibile ve l'ho scritto anche nel titolo gta 5 totalmente gratis questo video è stato registrato qualche ora prima del 14 maggio giorno in cui lo state vedendo voi ma un tweet dice che in accordo con game pressure com che è un sito abbastanza importante gta 5 sarà disponibile nel nello store di epic games a partire da oggi fino al 21 non è stato ancora confermato ma sarebbe veramente una mossa meravigliosa sarebbe una simil collaborazione se vogliamo dirla così di epic games con rockstar games io mi auguro davvero che in questo momento tutti voi starete scaricando gratis gta 5 che è veramente un capolavoro non ha un prezzo molto alto attualmente su istangaming.com oppure su altri cd cash.com insomma i siti quelli seri di compravendita di giochi online sta sulle 10 11 euro prenderlo gratis se lo potete fare fatelo perché gta 5 l'abbiamo giocato anche l'anno scorso veramente meraviglioso quindi una cosa incredibile e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è un argomento davvero molto importante ve ne ho parlato anche nel mio post su instagram ieri nelle prime ore della sera una notizia che trovate anche nella sezione news del sito di ap games e che parla del futuro di fortnite per quanto riguarda le console di nuova generazione andiamo direttamente a vedere in italiano che cosa dicono fortnite verso le console di nuova generazione oggi stiamo entusiasti di confermare che fortnite sbarcherà sulle console di nuova generazione al momento del lancio quindi ps5 xbox ce l'avranno già subito è lo stesso fortnite che già conoscete e amate pronto a sfruttare tutta la potenza della console più recente nei prossimi mesi man mano che il lancio si avvicina vi daremo dettagli più specifici nel frattempo ecco le risposte ad alcune domande è una versione completamente nuova di fortnite no non è una versione completamente nuova è un fortnite ottimizzato per sfruttare l'hardware e le funzioni che le console di nuova generazione mettono a disposizione in che modo fortnite sfrutterà l'hardware delle console al momento non vi possiamo dire nel dettaglio in che modo ma possiamo dirvi che la maggiore potenza dell'hardware consentirà di migliorare le prestazioni e la grafica al lancio la versione di fortnite per le console di nuova generazione sarà basata sulla real engine 4 ma miglioreranno sulla real engine 5 entro metà del 2021 e qua prima di leggervi un'altra cosa ragazzi parliamo di unreal engine quindi il motore grafico su cui si basa tuttora fortnite conosciamo benissimo ma guardate il trailer ufficiale di ciò che è in grado di fare un motore grafico a real engine 5 guardate un po è veramente meraviglioso quello che abbiamo appena visto abbiamo anche sicuramente notato l'effetto di distruzione delle parti più solide come si muove velocemente il personaggio con quale fluidità e quindi siamo sicuri che la real engine 5 ci regalerà un sacco di emozioni andiamo a rispondere ad altre domande il mio account di fortnite i miei progressi e gli oggetti che ho acquistato verranno trasferiti abbiamo in programma di supportare la compatibilità dei progressi su console sia tra la generazione sia tra le piattaforme in modo che l'account i progressi e gli elementi possano essere trasferiti fortnite supporterà il crossplay sulle console di nuova generazione e nostra intenzione supportare il crossplay su tutte le piattaforme e per concludere fortnite continuerà a supportare le piattaforme di gioco attuali si prevediamo di continuare a supportare le piattaforme attuale in tandem con il supporto per le console di nuova generazione quindi per un bel po non preoccupatevi ragazzi potrete giocare sia sulla ps4 sia sulla ps5 sia sull' xbox one sia sulla nuova xbox e ovviamente per il pc questa cosa non è importante e andiamo avanti ragazzi a parlare del prossimo argomento di oggi perché parlando ancora un attimino della real engine 5 sappiamo che rimuoverà i lots che cosa sono i lots praticamente il la rimozione del lots vuol dire una maggior fluidità del gioco e una maggior nitidezza nei dettagli quindi vuol dire un sacco di dettagli che per questioni più che altro hardware quindi se mi spiego un attimo se faccio un personaggio con una cinta nella cinta ci metto quattro granate magari preferisco dare più importanza alle parti principali del personaggio e tralasciare dei dettagli sulle granate o su dei delle parti della cinta questo permette all'occhio umano praticamente non c'è differenza ma alla macchina che deve invece far girare il gioco permette di essere più leggera questa cosa non dovrebbe succedere con la real engine 5 quindi avremo un sacco di dettagli extra e andiamo avanti anzi chiudiamo l'argomento e il news di oggi ricordandovi appunto che le date possibili per la 12.60 potrebbero essere il 20 o il 21 maggio mentre per la 12.61 ultima pace di questa season tra il 27 e il 28 insomma ragazzi un sacco di notizie anche oggi io vi ricordo l'appuntamento con me già da adesso i live su twitch ma alle 16 e 30 vi aspetto vi ringrazio per aver guardato questo video non vi dimenticate il like noi ci vediamo di là ciao